Torna protagonista la Sapienza Artigiana, alla Mostra Internazionale dell'Artigianato. L'83esima edizione ha preso l'avvio alla Fortezza d'Abbasso di Firenze e resterà aperta fino al 1 maggio. Quest'anno i principi ispiratori sono la qualità, l'eccellenza e l'originalità delle creazioni presentate. Un formato e allestimenti completamente rinnovati, mirati a valorizzare l'artigianato vero. Sì, puntare sui prodotti di qualità fatti dal nostro territorio, quando dico nostro dico l'Italia, può essere anche il mondo, perché qui esponiamo il mondo, ma vogliamo ripartire dal nostro territorio più vicino, perché dobbiamo aiutarlo assolutamente a raccontarsi. Visitando i vari stand abbiamo visto che si riesce ad unire la tradizione, specialmente di metodi antichi, con l'innovazione e l'attualità. È possibile? Eh, questo mi fa piacere che sia stato identificato, erano uno dei nostri obiettivi. Noi ricordo che siamo soci di Firenze Piero e Camera di Commercio, insieme agli altri soci pubblici abbiamo l'ambizione di creare una piattaforma a supporto degli artigiani. Quando dico a supporto vuol dire sia raccontarsi, ma anche aiutare i processi di cambiamento. Oggi il mondo è cambiato, la domanda è cambiata, la tecnologia pervade e invade. Dobbiamo aiutare tutto il mondo artigianale a allinearsi senza perdere la propria peculiarità.